Il mio nuovo investimento è uno short su Sterlina Dollar e si aggiunge all'investimento long che ho sul DAX. Ben ritrovato in questo video, io sono Damiano Zito, price action trader indipendente e in questa rubrica settimanale racconto il mio diario di trading con un conto reale di 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale nel percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. In questo momento sono sempre davanti al grafico della Sterlina, la piattaforma di ProRealTime e puoi vedere la mia posizione aperta su questo mercato, posizione che si trova vicino al mio prezzo di carico con un ritracciamento del mercato. Andiamo però un attimino ad aggiornare, a vedere l'aggiornamento del diario di trading, questo è il diario di trading nel mese di febbraio, diario che mostra tre contrattazioni, una prima contrattazione sull'euro dollaro che ho chiuso a costo minore 129,80 euro e due trade, quindi il DAX, un long sul DAX e lo short sulla Sterlina che ho aperto il 14 febbraio e al momento entrambi aperti. Sono due trade che in questo momento mi vedono esposto al mercato con più o meno questo controvalore, quindi un controvalore di circa 22.500 euro con un investimento massimo di 500 euro al mercato. Quindi sono due trade che ho in questo momento in corso sul mercato. Questa è la posizione sulla Sterlina, posizione che ho inserito appunto sulla rottura di questo setup. Perché ho fatto questo trade? Ho fatto questo trade perché venivamo da un momento di debolezza di dollaro americano che si è vista sicuramente in maniera chiara sull'euro dollaro, dove comunque ho fatto lo short ma che ho chiuso con un costo anticipato, costo ridotto, quindi ho fatto una chiusura anticipata riducendo un po' il mio costo e ho poi scelto di fare questo trade sulla Sterlina che ha mostrato, vediamolo un attimino dal settimanale, dopo la lunga tenuta che si vede appunto da dicembre, da metà dicembre in poi, fino a settimana scorsa, il mercato era rimasto in questa lateralità, comprendendo anche gli spike sul settimanale, ma compresso in termini di aperture e chiusure veramente in un range molto stretto del mercato. Per quanto riguarda diciamo questo box più grande, il livello più importante era sicuramente l'1,26 e 30, quindi nonostante il trend long, diciamo quello che mi era piaciuto vedere anche dopo questa, in realtà dopo questa tenuta, era il fatto che il mercato potesse ritestare l'1,26 e 30 e andare a confermare diciamo la debolezza sotto questo livello e quindi vedere un movimento più a ribasso che potrebbe anche andare verso l'1,24 se il dolore americano effettivamente continua questa sua fase di forza. Sul daily quindi si è venuto a creare nella giornata di martedì 13 febbraio questo bellissimo setup, un setup che fondamentalmente mostra chiaramente come ci sia stata una falsa rottura del pavimento 1,26 e 30, quindi in questa giornata devi immaginare che il mercato a un certo punto qui era sostanzialmente bullish, quindi da questa apertura il mercato era completamente bianco o verde, dipende qual è la rappresentazione che utilizzi nel tuo grafico, e successivamente in serata ha chiuso in questo modo, quindi un mercato che chiude con un grande spike, questa ombra con questo massimo, quindi chiude su questo livello e quindi mostra una chiara falsa rottura, falsa rottura che è diciamo l'elemento fondante del metodo di Arforex che ho deciso quindi di tradare con un sell stop a 1,27, 1,25, sì, 7,2, 1,25, 7,2, quindi 1,25, 7,2, entra il mio trade e adesso ci ritroviamo in una fase di ritracciamento, è al momento ancora al di sotto di 1,26 e 30. Sul grafico puoi vedere come qui c'è una nota che è sostanzialmente un aggiornamento sul fine settimana relativo alla mia posizione, sono andato a vedere quindi la chiusura settimanale, quindi una chiusura con una outside bar contenuta dei minimi, segnato quindi il fatto che il mercato effettivamente è andato sull'1,25 e 40 e ha sentito chiaramente il livello, sono dei minimi importanti, qui avevamo anche tutta questa zona e close però sotto la zona di 1,26 e 30, il pavimento. Inoltre abbiamo un momento in cui l'euro e l'Australia in questo momento sono un pochino più forti, danno almeno l'idea che possono andare a ritracciare rispetto al dollaro americano e sono in realtà anche più forti al momento rispetto alla sterlina, quindi potrebbe verificarsi un momento di decorrelazione contraria, cioè dopo aver visto per settimane una sterlina più forte e intenuta di questo livello rispetto, quindi più forte rispetto a euro e Australia, quello che mi sono scritto è che potrebbe adesso verificarsi un momento di decorrelazione al contrario, quindi con euro e Australia più forti di sterlina. Questo sì, sicuramente può avvenire, ma ai fini del mio trade questo che cosa significa? Questo significa che se c'è un momento di pausa per il dollaro americano, di debolezza, chiamiamola anche così, potrebbe comunque tornare sterlina più forte anche rispetto al dollaro americano, magari con meno forza rispetto a euro e Australia. Questo però non basta, quello che mi serve, affinché io possa rimanere al mercato e non decida di vendere prima, è che il prezzo in chiusura non torni sopra determinati livelli, cioè può tornare sopra l'1,26,30, magari anche in un giorno, però poi mi servirebbe vedere subito debolezza da parte del mercato e quindi non vorrei vedere ecco dei consolidamenti sopra questa zona che poi possono portare invece a un'ulteriore spinta rialzista e quindi alla rottura di questo setup e quindi magari andare a spingere ancora verso l'alto e a continuare quello che è effettivamente un trend, almeno l'ultima gamba del settimanale, quindi un trend di medio periodo long. Questo diciamo è uno scenario che potrebbe verificarsi, però finché rimaniamo sotto l'1,26,30 io rimango al mercato, chiaramente sto monitorando la situazione per capire se ha ancora senso il mio trade, al momento sicuramente sì, e che cosa può succedere nelle prossime ore, giornate. Ok, quindi ingresso che ho fatto su questa falsa rottura è investimento massimo a 1,27,60, però come dicevo poco fa non vorrei vedere dei ritorni in alta volatilità su questi livelli e dei consolidamenti. Probabilmente dovesse nel giro di 1-2 giorni il prezzo tornare a 1,26,80, quindi qualcosa del genere. Non è, diciamo, non è per il mio trade, non è molto bello per il mio trade, nel senso che comunque invalida un po' la mia contrattazione, questa contrattazione comincia a perdere un po' troppo valore, quindi l'idea è che magari poi posso uscire su un lieve ritracciamento comunque dopo questa vola, il giorno seguente, decidere di uscire dal costo anticipato, quindi anziché 250 euro lì, prendere, diciamo, metà dell'investimento e ridare al mercato questa quota. L'altro trade che invece ho in corso è il long sulla Germania, quindi sul DAX. Questo è al momento il grafico del DAX, grafico che mostra, noi ci siamo, si è visto insomma allo scorso video, ci siamo lasciati con un'analisi dove dicevo che stavo monitorando il livello di 16.930 come livello importante perché rappresentava anche una chiusura, cioè questa chiusura settimanale che era stata dopo due indecision confermata, soprattutto con una chiusura ancora più alta, 16.954, e quindi questa era una zona un po' spartiacque, molto importante. nel momento in cui c'è stato il martedì 13, quindi proprio dopo, cioè nella stessa giornata in cui ho registrato il mio video sull'aggiornamento di questa rubrica, c'è stata questa chiusura, ma effettivamente poi con un momento un po' più calma la mattina, la mattina seguente, quindi il mercoledì, mi sono reso conto che ancora eravamo sopra i 16.800, quindi in tenuta anche di questo setup primario che è praticamente la FTV dal quale è partito poi il movimento di tenuta sopra i 16.800 punti, e quindi ho deciso di rimanere a mercato. Il mercoledì, quindi il seguente, quindi il 14 febbraio, c'è stata questa barra di recupero che è un inside, ma che se andiamo a vedere è sostanzialmente una dinamica di falsa rottura di tutti questi minimi precedenti, e quindi è sostanzialmente un app in bar in due giorni, e quindi sono rimasto a mercato. Ho pensato anche di incrementare, però ho deciso un attimo di guardare un po' la dinamica, avevo anche il trade sulla sterlina, e valutare eventualmente uno swing ulteriore prima di incrementare. Non so se questo lo farò, dipende dove effettivamente, come verrà questo swing, altrimenti insomma rimarrò con questa posizione. Al momento quindi, nonostante ci sia stata questa candela venerdì, comunque sono rimasto abbastanza tranquillo in posizione, e qui effettivamente c'è un ulteriore scenario che ho disegnato nel fine settimana, che è quello appunto di poter vedere il mercato all'interno di queste aree, a fare un ritorno e magari un eventuale swing, che è la zona dove eventualmente sono disposto a valutare un ulteriore ingresso, e quindi un incremento del mio trade. sicuramente diciamo la situazione è abbastanza impostata per il mantenimento del long, in questo momento, il mio prezzo di carico è 16.985 circa, 84,90, un trade che al momento quindi preferisco mantenere, abbiamo un overnight un po' pesante, ma al momento rimango a mercato, anche perché effettivamente sono i 16.800 punti il vero livello che danno senso a questo long, tant'è che effettivamente per chi si è visto, diciamo anche il motivo per il quale sono uscito dal trade short era proprio il ritorno di forza del mercato proprio su questi 16.800 punti, 16.800 che erano il mio livello spartiacque, che è stato appunto ritestato da questo setup, una volta adesso c'è stata una seconda falsa rottura tenuta di questo livello, adesso il mercato potrebbe effettivamente da qui fare magari qualcosa che è più simile, diciamo un movimento, se vogliamo un 1, potrebbe fare un 1, 2, 3 più o meno su quest'area, quindi poi andare magari verso prime i 17.300 o anche i 17.400 punti. Io al momento non ho inserito un target su questa posizione, ma che cosa ho fatto? Ho momentaneamente ridotto il mio investimento a 16.670 punti, quindi sto con questo tipo di posizionamento come stop della posizione, quindi 173 euro di investimento in questo momento, e 17.300 punti e 17.400 sono le due aree dove valuterò eventualmente l'uscita. Sicuramente 17.400 non dovesse, diciamo, sentire questo, diciamo, avere uno stop qui, perché il 17.300 avevo visto che era un livello molto, che aveva delle confluenze importanti, e quindi sono, diciamo, è in quest'area che andrò a concentrare, poi eventualmente dovesse il mercato tornare al rialzo, è in quest'area qui che andrò a valutare le mie, diciamo, la mia uscita, e quindi andare a vendere, a chiudere la mia posizione sulla Germania. Quindi questo è attualmente l'aggiornamento del mio diario di trading, abbiamo visto il mio short sulla sterlina, che in questo momento è in ritracciamento, e il mio long sulla Germania, Germania che effettivamente potrebbe anche darmi l'opportunità di valutare un incremento, comunque di andare a target ancora nelle prossime giornate, insomma, salvo ritorni short su questo mercato, e ritorni long invece sulla sterlina. Bene, io ti ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, come sempre ti ricordo che puoi commentare questo video, dicendomi cosa stai facendo tu sul mercato, se anche tu sei long o short sul DAX, short sulla sterlina, oppure se hai fatto qualche altra operazione di trading, ti invito inoltre a lasciare un mi piace, iscriverti al canale se non lo hai già fatto, e nel frattempo io ti saluto e ti auguro buon trading, alla prossima, ciao!